Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto lampade per proiettori Itachi DT01022, lampada di ricambio Philips, Itachi CPRX70W, CPRX78, CPRX78, CPRX80, CPRX80, CPRX80W e DX24. Premio di qualità di lampada del proiettore è compatibile con i seguenti modelli Proiettore Itachi CPRX80W, CPRX78, ed DX24, CPRX78W e ViewSonic PJ L7211. Qualità Premium, l'alta luminosità, la sostituzione della lampada del proiettore di lunga vita. Modulo intero lampada Contiene lampada, case, cavi e connettori. Garanzia totale 90 giorni Compatibile con i seguenti proiettori Itachi CPRX80W, CPRX78, ed DX24, CPRX78W e ViewSonic PJ L7211. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione